Amici del software libero open source, benvenuti o bentornati in questa 128esima puntata del podcast di Marcosbox. Rieccoci qui in questa nuova puntata del podcast di Marcosbox. Sì, mi sono preso una lunghissima vacanza dal podcast. Moltissimi di voi mi hanno contattato nelle ultime settimane, mesi e quant'altro per chiedermi che fino a fatto il podcast è tutto bene. Il podcast si è preso una lunga pausa semplicemente perché sono stato, tra virgolette, rapito da alcuni impicci in real life. Poi ci sono state queste pseudo vacanze di mezzo, pseudo vacanze perché alla fine ho fatto se non tre giorni di ferie. E quindi non mi sono riposato per niente. Sono stressato. Spero che voi abbiate fatto delle belle vacanze rilassanti, che vi siate rilassati, vi siate ricaricati. Giuro che l'anno prossimo me le faccio pure io le vacanze. Magari se riesco organizzo quel famoso viaggetto che devo fare ormai da diversi anni. Che per un motivo o per l'altro non sono ancora riuscito a fare. Pandemia permettendo. Perché speriamo che l'anno prossimo scoppia qualche altra pandemia, qualche altra invasione in arena, qualche altra guerra. Viviamo un tempi brutti, viviamo. Visto e considerato che sono passati ormai topi mesi dall'ultima puntata del podcast di Marcosbox, per non stare a tediarvi con tutti quanti i post pubblicati in questo arco temporale, vi farò un riassunto degli argomenti principali, in modo da rimetterci in carreggiata e di poter riallacciarsi con la puntata della prossima settimana. Iniziamo con i rilasci, i rilasci che sono stati numerosi in questi mesi. Abbiamo avuto due rilasci molto importanti. Il primo riguarda il rilascio di Linux Mint 21, nome in codice Vanessa. Linux Mint 21 è basato su Ubuntu 22.04, quindi è reedita allo stack hardware e software, però con le solite aggiunte operate dal team di Linux Mint. Come sapete, Linux Mint è una derivata di Ubuntu, la più importante derivata di Ubuntu, e che negli ultimi anni ha deciso di seguire le versioni soltanto RTS di Ubuntu, quindi le nuove versioni di Linux Mint seguono le RTS di Ubuntu. Non si aggiona più in corrispondenza delle race semestrali, con le race semestrali, ma si aggiona di point race in point race, di fatto. Linux Mint 21, dicevamo, si basa su Ubuntu 22.04 RTS, offre tre desktop environment, Cinnamon, Mate e XFCE. Cinnamon è il desktop environment sviluppato in casa da Linux Mint. Questa nuova versione di Cinnamon introduce dei miglioramenti nelle prestazioni, miglioramenti che vanno sia dal punto di vista dei tempi di avvio, che anche fluidità di animazione e quant'altro. Rispetto poi a Ubuntu 22.04, gli sviluppatori di Linux Mint hanno deciso di mantenere OS Prober per garantire il corretto rilevamento dei sistemi operativi in caso di dual boot, e di rimuovere SystemD o OMD, che tanti problemi aveva creato agli utenti Ubuntu. La novità poi che troviamo riguarda anche il parco software. Troviamo il supporto a WebP in XViewer e in Thumbnailer, un cambio nel gestore di Bluetooth che passa a Blumen 2.3, che prende il posto di Blueberry, e come sapete, ormai sapete anche da diverso tempo, Linux Mint ha deciso di essere una distro snap free e quindi di non offrire pacchetti in formato snap installati, no, anzi, non offre proprio il supporto a snap preinstallato. Che cosa significa questo? Significa che hanno deciso quindi di mantenersi in casa anche il pacchetto relativo a Firefox, che adesso è puro, perché hanno stretto una collaborazione da qualche mese, da qualche... ah no, più di un, diversi mesi anzi, con il team di Mozilla, per offrire un'esperienza Firefox pura, quindi senza personalizzazioni, senza niente. Quindi noi utenti ci guadagniamo anche in questo caso. Ma perché vi ho parlato di Firefox? Se questa è una novità che è stata introdotta da... o mai da parecchio tempo, beh, perché mi volevo riallacciare al discorso del tempo di avvio di Firefox in formato snap su Ubuntu, perché lo scorso luglio gli ingegneri di Canonical hanno annunciato e hanno introdotto una serie di modifiche al pacchetto snap di Firefox per ridurre i tempi di avvio della versione snap di Firefox. E a quanto pare, da quel che si può constatare anche sulle nostre installazioni, sì, e questi sforzi profusi stanno dando i loro frutti. Già a partire da Firefox 102, in formato snap, abbiamo una riduzione media del 50% del tempo di avvio dopo una nuova installazione rispetto a Firefox 101. Su Marcosbox trovate un archivio, cioè un articolo che spiega quali sono le modifiche che sono state operate per poter modificare, e molto probabilmente nel corso dei prossimi mesi arriverà qualche altro post da parte degli ingegneri di Canonical che ci introdurranno qualche altra mirabolante miglioria fatta al codice di Firefox in formato snap per poter renderlo ancora più veloce. E mi domando io, ci voleva tanto, cioè dovete arrivare a introdurre Firefox in formato snap come predefinito e accorgervi che faceva schifo nel tempo di avvio? Non lo so, cioè lo dovete fare prima sta cosa. Comunque, polemiche a parte. L'importante è che si stanno dando da fare. Restando a parlare di Ubuntu, a metà agosto abbiamo visto il rilascio di Ubuntu 22.04.1, la prima poi in tre crisi di Ubuntu 22.04 che ti esse Jamie e Jellyfish e ovviamente anche dei suoi derivati sui flavors ufficiali. Non introduce novità a livello del stack hardware e software, ma questa nuova ISO porta con sé tutte e quante le correzioni di bug, patch, sicurezza e aggiornamenti delle applicazioni sino ad ora rilasciati ed è una ISO ideale per tutte quante le nuove installazioni. Se avete una precedente installazione di Ubuntu 22.04 vi basterà aggiornare e quindi non ci sarà nessun problema, nessun stravolgimento. Infine, concludiamo questo spezzone dedicato alle distribuzioni Linux con una notizia interessante di qualche giorno fa, ovvero del fatto che D-Pin è diventato una distro tra virgolette indipendente. Indipendente in che senso? Perché D-Pin Linux non sarà più basata su Debian ma sarà sviluppata in modo indipendente, avrà aggiornamenti autonomi e un nuovo formato di pacchetti sviluppato in casa. È possibile già testare questa nuova distribuzione, questo nuovo corso di D-Pin grazie alla release della ISO di D-Pin versione 23 preview che attualmente è in fase di sviluppo e include tutte e tre le caratteristiche che vi ho annunciato prima, quindi nuovi repository, aggiornamenti atomici e un formato di pacchetti sviluppato in proprio. Questo nuovo formato di pacchetti si chiama Ring-Long ed è stato sviluppato con l'obiettivo di risolvere vari problemi di compatibilità causati dalle complesse dipendenze dei formati di pacchetti tradizionali sotto Linux e ridurre i rischi per la sicurezza causati dal controllo decentralizzato dei permessi. Tutte queste belle parole per dire che hanno fatto questo nuovo pacchetto che è compatibile con qualsiasi distribuzione Linux con questo nuovo formato di pacchetti supporto aggiornamenti incrementali delle applicazioni gestione distribuzione e sandbox delle app speriamo cioè speriamo che porti davvero delle innovazioni che magari possono essere spunto anche per altri per altri progetti ancora non ho avuto modo di provarlo perché non ho sbatto di installare una versione in sviluppo preview di pin Linux anche perché sapete bene che spesso ci litico con questa distribuzione però magari forse ci metto su una macchina virtuale per farci un giretto anche se le macchie virtuali sapete bene che non danno quella non ti fanno provare appieno la distribuzione quindi vi ritrovate con qualcosa di castrato dal punto di vista del prestazionale dicevamo poi l'altra novità riguarda gli aggiornamenti atomici continuo a sbagliare questa cosa gli aggiornamenti autonomici vedete che continuo a sbagliare gli aggiornamenti atomici praticamente gli aggiornamenti vengono gestiti gli aggiornamenti di sistema come operazioni atomiche se i pacchetti vengono installati con successo gli aggiornamenti di sistema sono terminati se gli aggiornamenti di sistema falliscono il sistema può essere riportato a una versione precedente senza motifiche evitando così il problema che alcune dipendenze siano installate ma il sistema non sia completamente aggiornato è una cosa che funziona già su Fedora che ha un'edizione specifica che sfrutta gli aggiornamenti atomici ed è una cosa interessante per una distribuzione infine come vi dicevo prima ma gli aggiornamenti adesso non è più basata su Debian ed è stato creato quindi un nuovo repository nuovo di zecca con tutti quanti gli aggiornamenti che a detta poi del team di Dpin continueranno a prendere spunto nella gestione da Debian e da Arch Linux vedremo come evolverà in futuro c'è da dire che questa distribuzione cinese sta facendo davvero tanti passi da gigante sarà che magari è finanziata dal governo cinese perché sapete bene che il governo cinese cerca di distaccarsi dall'essere dipendente dai software proprietari statunitensi però è bello vedere che c'è molto interesse c'è molto fermento c'è anche molta capacità di costruire qualcosa di bello perché onestamente l'aspetto della distribuzione di Dpin desktop environment ha anche un look moderno che non dispiace ah mi stavo dimenticando di dirvi anche un'altra cosa interessante che è una notizia che interesserà a tutti quanti i fan di KDE Neon all'ascolto beh il team di sviluppo di KDE Neon ha pubblicato un comunicato ufficiale sul blog della disto nel quale ci informa che il porting a jammy jellyfish procede a pieno ritmo quasi tutti i pacchetti sono stati compilati restano da costruire le iso e testare gli aggiornamenti non hanno dato una data di rilascio per questa nuova versione di KDE Neon basata su Ubuntu 22.04 ma hanno detto che semplicemente come per qualsiasi altro progetto software di ingegneria sarà pronto quando sarà pronto quindi non mettiamo gli fretta sarà deve dire anche interessante come si comporteranno per quanto riguarda Firefox se anche loro manterranno la versione snap o decideranno di fare una versione classica vedremo e torniamo nuovamente a parlare adesso di DuckDuckGo DuckDuckGo conoscete tutti quanti si tratta di un motore di ricerca ma anche browser web che ha fatto del rispetto della privacy degli utenti il suo successo per questo motivo quando lo scorso mese di maggio il ricercatore specializzato in cyber security Zack Edwards aveva scoperto che mentre DuckDuckGo da un lato bloccava regolamente i tracker di Google e Facebook dall'altro invece consentiva a quelli di Microsoft di continuare a funzionare è scoppiato il putiferio fra gli utilizzatori DuckDuckGo e non solo che ha portato alla luce anche un accordo stipulato tra DuckDuckGo e Microsoft per non bloccare i tracker Microsoft di fatto bene a distanza di qualche mese l'azienda è corso ai ripari annunciando l'espansione della protezione da caricamento dei tracker dei terze parti per includere anche i siti Microsoft tale modifica è stata già imprimentata se non ricordo male all'interno delle versioni per iOS e Android del browser e anche per le estensioni per Chrome Firefox Safari Edge e Opera per quanto riguarda la versione beta di DuckDuckGo per desktop questa modifica verrà implementata nel corso dei mesi di settembre su Marcosbox trovate un articolo al riguardo che spiega anche come questa modifica è stata introdotta e come si comporterà come si comporterà DuckDuckGo per quanto riguarda l'accordo per la pubblicità Microsoft su DuckDuckGo quindi andate a leggere che sta tutto un articolo molto approfondito al riguardo ecco questa ultima notizia concludiamo qui questa 128esima puntata del podcast di Marcosbox mi scuso nuovamente per la lunga stenza con il podcast dovrà tornare tornerà sicuramente in forma stabile vi ricordo come sempre che potete supportare il podcast di Marcosbox in diverse forme c'è un canale Telegram dedicato alle offerte di Marcosbox da Amazon quindi sfruttando il mio codice referral che trovate anche su blog acquistando su Amazon potete supportare il blog potete supportare il blog anche con acquistando un servizio VPN perché su Marcosbox trovate un articolo dal titolo 3 VPN per tutte le tasche nel quale vi parlo di NordVPN Surfshark e Atlas VPN 3 VPN che fanno parte della stessa famiglia perché a quanto pare da quel che ho visto sono state acquistate tutte quante da NordVPN NordVPN acquistato prima Atlas VPN poi Surfshark offrono servizi differenti con costi differenti se avete necessità di utilizzare un servizio VPN potete acquistarlo utilizzando il mio link affiliazione sia per NordVPN che per Surfshark che per Atlas VPN in modo da avere anche tre mesi aggiuntivi e da poter così supportare il blog i tre mesi aggiuntivi sapete tutti quanti quelli che sponsorizzano i servizi vpn offrono questo bonus questo bonus in caso di affiliazione è uguale a tutti quanti non è nulla di speciale è speciale nel caso in questo caso perché supportate marcosbox vi ricordo come sempre di iscrivervi al podcast di seguirmi sui canali social quindi facebook twitter youtube linkedin di seguirmi soprattutto su telegram dove sono l'attivo come vi dicevo il canale dedicato all'offerta di marcosbox il canale dedicato alla community e una pagina ufficiale su telegram che potete utilizzare anche a mod di feed rss lunga vita e prosperità a tutti quanti ci riascoltiamo con una frequenza maggiore nelle prossime settimane con il podcast di marcosbox ciao ciao